Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Onda Marina e oggi faccio l'apertura di queste due bustine che si chiamano My Noveli Kitty Baby Love Prima di iniziare voglio scusermi se lunedì e mercoledì non ho caricato video regolarmente ma sono sommersa di verifiche essendo gli ultimi giorni di scuola Bene, iniziamo con la recensione delle bustine Allora, qui ci sono tre gattini con scritto My Noveli Kitty Baby Love Qui c'è scritto gli originali e qui c'è scritto Tenry, nuovi, gioca con noi E questo è un gattino con gli occhioni dolci E qui c'è scritto un magazzino, un micetto valutato, un accessorio in ogni bustina E dietro ci sono i gattini che si trovano Possiamo aprire queste bustine Allora, qui c'è il mini magazine di My Noveli Kitty Baby Love Qui ci sono tutti i gattini che si trovano Qui ci sono delle informazioni Questo è il gattino che abbiamo trovato ed è veramente carinissimo E' bellissimo E insieme c'era questo che è il suo accessorio Credo sia... ho una ciotola o una cuccia, non lo so Bene, apriamo la seconda Abbiamo trovato questo gattino E' sempre questa qui che non so cosa sia Guardando sulla checklist I gattini si chiamano Vinnie e Biscuit E niente, spero che il video vi sia piaciuto E questi gattini mi piacciono molto Penso ne prenderò altre di queste bustine E niente, ci vediamo al prossimo video Ciao ciao!